Un'iniziativa voluta fortemente dalla FIDAPA che ha tanti ospiti illustri, una tematica importante, probabilmente forse non molto conosciuta nel nostro territorio, parliamo di parto in maniera elementare, parto in dolore, parto analgesia. Sì, effettivamente il nostro territorio ha avuto una brevissima esperienza di parto in dolore nell'ospedale di Crotone che però è durata poco e è andata subito in declino. Noi della FIDAPA abbiamo sposato questa iniziativa incentivata dall'entusiasmo di due grandi amiche l'avvocato Viviana Caruso e l'avvocato Alessandra Caldiari che ci hanno coinvolto in questo evento e abbiamo la voglia di far ripartire il servizio di parto nel gesia nell'ospedale di Crotone. Sicuramente le criticità che affronta il nostro ospedale per mettere in piedi il parto analgesia a Crotone sono ben note a tutte. Abbiamo criticità dal punto di vista di risorse economiche, di risorse anche professionali però crediamo che lavorando insieme il mondo delle associazioni e il mondo della dirigenza ASP che ci è stata molto vicina devo dire in questo evento, ci ha supportato e ci ha sostenuta sin dall'inizio e per questo voglio ringraziare pubblicamente il dottore Carcea che stasera ha illustrato il piano e il progetto di rimodernamento delle sale parto che è uno sicuramente dei motivi per cui al momento non è possibile soffrire del parto analgesia a Crotone. Qualcuno sostiene che gli ospedali che hanno una media di 500 bambini, una nascita di 500 bambini all'anno dovrebbe teoricamente chiudere perché non è un ospedale che appunto non avendo delle professionalità stabili all'interno della struttura rischiano a volte anche di parlare di parto, in questo caso di morte del parto. Quindi l'importanza, quello che diceva anche il suo ospite, quindi il dottore che è arrivato a Cosenza l'importanza di avere delle figure professionali oltre a una struttura ovviamente adeguata. Sicuramente abbiamo imparato che per mettere in piedi il servizio di parto analgesia a Crotone abbiamo bisogno di figure professionali specializzate, di anestesisti che si occupino solo ed esclusivamente di parto analgesia. Sicuramente abbiamo bisogno di sale parto adeguate, di strumentazioni adeguate che in questo momento purtroppo non abbiamo. Abbiamo bisogno di tante cose, però ritengo e riteniamo come donne, io vi ricordo che la FIDAPA è un'associazione che si occupa di promozione e di tutela dei diritti delle donne. Noi riteniamo che il parto sia un momento di grandissima realizzazione femminile, è un evento molto importante. Essendo ormai il parto analgesia un diritto riconosciuto alle donne, perché rientra nell'EA, nei livelli essenziali di assistenza, riteniamo che anche le donne crotonese debbano ottenere questo diritto. Poi è chiaro, ognuno può scegliere se usufruirne o meno, però avere almeno la possibilità di scelta. Diciamo che lei ha fatto proprio un intervento da magistrato, perché è andata un po' a spulciare in quelle che sono le conoscenze mediche attinenti anche a quello che poi è il suo lavoro da magistrato. Parlando di vari casi, positivi e negativi, quest'oggi all'interno di questo convegno voluto fortemente da FIDAPA si parla di parto analgesia. Sì, è un tema che mi sta molto a cuore, perché chiaramente è un tema che coinvolge una serie di profili, sicuramente profili giuridici, ma anche profili sociali molto rilevanti, considerato che allo Stato attualmente, come dicevano anche i medici, il parto senza dolore può evitare una serie di conseguenze anche giuridiche, che sono quelle proprio della responsabilità dei medici, delle responsabilità delle strutture e quindi sicuramente il fatto che ci possa essere un aiuto alla donna e un sostegno alla donna può comportare veramente un sollievo anche per la giustizia. Un sollievo per la giustizia che, ahimè, negli ultimi periodi purtroppo probabilmente non avviene, in quanto ancora oggi nel XX secolo si parla di morte durante il parto. Sì, purtroppo sì, ci sono tanti casi, poi purtroppo sappiamo tutti quali sono i tempi della giustizia e quindi magari una controversia instaurata per avere la giustizia poi dura tanti anni, c'è tanto dolore che non si chiude finché non si chiudono le controversie. E quindi se si può lavorare tutti insieme, tutte le figure professionali coinvolte, quindi medici, anestesista e anche l'ostetrica, sicuramente questo può veramente evitare che insorgano problemi che poi purtroppo in questi campi la giustizia non dovrebbe entrare proprio. Quando entra in questi campi vuol dire che le cose non sono andate bene. A volte i ginecologi sostengono che la morte per un pa' morire durante un parto può avere delle complicanze dell'ultimo minuto. Teoricamente non è così perché in genere una donna in stato di gravidanza ha un percorso di nove mesi quindi in questi nove mesi dovrebbe essere seguita intanto dal ginecologo e allo stesso tempo consigliata anche dal medico curante. Quindi si potrebbe comunque oggi evitare di morire a causa del parto. Sì, infatti io sicuramente ho anche approfondito questo tema del consenso informato. Se ci fosse un'informazione maggiore e se potesse essere seguita meglio la donna durante la preparazione probabilmente molti casi non ci sarebbero, certo. Il nostro territorio le è mai capitato di seguire come magistrato un caso proprio che riguarda la morte per un parto? Se sì, alla fine è brutto dire. Ha vinto la famiglia della donna che ha perso la vita o ha vinto? Di solito vincono sempre i medici. Come funziona? No, no, non è così. Devo dire che non mi è mai capitato per fortuna un caso specifico del genere. Ma casi di responsabilità professionale del medico sì, non è vero che vincono sempre i medici. Perché come dicevo durante l'intervento, se la prestazione del medico è considerata non di speciale difficoltà, come questa, l'analgesia epidurale non è una prestazione di speciale difficoltà, a quel punto è il medico che deve provare, deve aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quindi non è vero che vincono sempre i medici. Ecco, con lei posso fare finalmente delle domande ben specifiche e precise per far capire ai nostri telespettatori la differenza che c'è tra anestesia, intanto, e analgesia? Ma l'analgesia e l'anestesia, in effetti, pur partendo dallo stesso presupposto, che è la tecnica con cui si ottiene sia l'uno che l'altro risultato, in effetti è soltanto basato sulla differenziazione di quelle che sono le concentrazioni di farmaci che noi andiamo ad utilizzare. Capisce bene che per poter fare un'anestesia io ho bisogno di utilizzare delle concentrazioni più elevate che mi consentono di raggiungere quello che è il piano chirurgico e quindi consentono di poter eseguire un taglio cesareo o qualunque tipo di intervento. Nel caso specifico dell'analgesia, invece, io devo necessariamente rispettare quello che è l'evoluzione del travaglio stesso e quindi far sì che vada a coprire con la mia analgesia esclusivamente le fibre sensitive e non quelle motorie, quindi consentire alla donna di poter fare tranquillamente tutto ciò che avrebbe fatto senza, diciamo, l'analgesia stessa. Questa l'ottengo riducendo fortemente quelle sono le concentrazioni dei farmaci che io vado ad utilizzare per raggiungere il mio obiettivo. Altre cose importanti è che l'analgesia in effetti è un'evoluzione continua di quello che è lo stato progressivo del travaglio stesso cioè quindi va a costruire un vestito come un buon sarto può costruire su una paziente che deve partorire progressivamente sul travaglio stesso aumentando con un protocollo prestabilito quello che è il percentuale di farmaci che non andiamo ad utilizzare. In un suo primo intervento lei ha detto non è un obbligo soffrire in un parto dove sta scritto che una donna deve comunque soffrire per poter avere un figlio? Assolutamente, assolutamente. Io penso che sia il presupposto e per questo colgo l'occasione per ringraziare il management dell'azienda ospedale di Cosenza che crede fortemente in questo progetto nel progetto che umanizzare un parto significa rispettare la scelta di una donna il dolore da parto io ritengo che sia un dolore inutile non è certo il dolore che una donna percorre durante attraversa o che percepisce durante il travaglio stesso ma è quello che poi l'illusione della vita dà alla donna stessa che fa sì che diventi madre con tutte le problematiche che sono, come dicevo, inerenti alla crescita di un proprio figlio In questo caso il protagonista ovviamente oltre al ginecologo dovrebbe essere l'anestesista Ecco, questo è un discorso che io non condivido sa perché non condivido? Perché l'anestesista non è il protagonista pur essendo agli occhi della donna colui il quale toglie il dolore quindi colui il quale rende bello il parto stesso io ritengo invece che il nostro sia un lavoro d'equipe nel rispetto totale della figura principale che c'è nel parto che è l'ostetrica l'ostetica è quella quale mi guida nella mia gestione dell'analgesia l'ostetica rimane la figura più importante quel one to one tra paziente, partoriente e ospedale quindi l'ostetica in quell'istante che consente di poter raggiungere l'obiettivo del parto stesso il ginecologo rimane una figura importante con il quale guida laddove la fisiologicità del travaglio non ci consente di andare avanti anche la decisione che sono quelle necessarie per poter eventualmente convertire un travaglio in analgesia l'anestesista è quello che in equipe collabora con queste figure quindi non è un primo attore ma è un elemento di una squadra che deve lavorare come squadra e che deve porre come obiettivo non tanto quello di raggiungere l'obiettivo di raggiungere la sua esaltazione professionale ma quello di far sì che la donna viva in quell'istante con la nascita del proprio figlio un momento veramente bello Dottore in conclusione indicazioni e controindicazioni del parto analgesia guardi le indicazioni la prima motivazione è la scelta materna quella è un'indicazione ma esistono delle situazioni in cui la scelta viene data non tanto dalla donna ma da problematiche che possono essere proprio presenti in quell'istante nel travaglio stesso può essere praticamente un feto grosso rispetto a quello che è il canale da parto quindi con una sensibilità dolorosa molto più elevata una situazione di cardiopatia della paziente quindi che non consente la possibilità alla paziente di poter sentire dolore per tutte quelle che sono le componenti che dicevo io prima nella relazione della diversità fisiologica che c'è nella donna gravida una componente anche psichiatrica quindi non consente la donna di vivere serenamente quindi non capisce quello che può essere il momento stesso ma ci sono anche delle controindicazioni cioè se noi abbiamo delle turbe della coagulazione se ci sono delle patologie particolari nella donna questo non ci consentono di poterlo fare principalmente dettato a questo per il resto penso che sia una procedura che come le dicevo non deve essere una forzatura non deve essere un obbligo ma è in un ventaglio di offerte che un'azienda può offrire alla parto oriente sicuramente questo rappresenta una di queste componenti una delle più importanti presente nell'azienda stessa Lei ha aperto se vogliamo questo incontro sicuramente fondamentale per questo territorio per l'azienda ospedaliera intanto dandoci anche delle novità per quanto riguarda la struttura stessa Sì certo, questo diciamo che è il primo passo che abbiamo fatto perché stiamo lavorando su questo progetto da tanto tempo sia dal punto di vista organizzativo che strutturale organizzativo perché dobbiamo vedere insomma anche la forza lavoro degli anestesisti, dei preparatori di una sala parto e tutto quello che comporta l'equip proprio dedicato dal punto di vista strutturale io ho proposto con una determina anzi una delibera chiaramente il rifacimento delle sale parto perché sono importanti ripeto anche dal punto di vista strutturale tutto quello che è necessario per praticare diciamo questo tipo di servizio di parto analgesia anche perché sembra una cosa così banale ma non lo è anche perché bisogna tenere sempre presente come medico lo dico naturalmente come ex anestesista anche se è con tutta la, non la presunzione ma così questa mia partecipazione a quella che è stato l'inizio della mia carriera che ho iniziato proprio a fare l'anestesista nell'ospedale di Crotone e quindi c'è un ritorno di fiamma quando si organizzano e quando si propongono determinate giornate di studio come questa e che le ho praticate da anestesista ripeto certamente non tanto anche perché ripeto bisogna praticarle tanto su delle donne che abbiano i requisiti sia dal punto fisico che dal punto di vista strutturale perché magari persone obese eccetera non anzi in donne certamente obese oppure che hanno caratteristiche diverse di quelle che sono la normalità appunto delle donne e praticarlo certamente sempre con attenzione anche perché come dicevo prima il parto analgetico non è una cosa semplice è una diciamo pratica invasiva e che bisogna tenere sempre sotto controllo e monitorare la donna Dottore un tempo da noi si praticava il parto indolore lo diciamo in maniera più elementare il parto analgesia oggi non si fa più come diceva lei probabilmente c'è un ritorno di fiamma e se sì, se è possibile all'interno della nostra struttura ci si lamenta del fatto che da noi ci sono pochissimi parti addirittura qualcuno dice che andrebbe chiuso proprio perché non superiamo i 500 parti l'anno conosciamo un po' tutti quella che è la storia del nostro territorio della sanità non solo locale ma anche regionale ritornando a parlare di parto indolore un tempo c'era, oggi non c'è più beh un tempo c'era un tempo diciamo che era soltanto l'intraprendenza di noi parlo di me naturalmente di noi medici giovani anestesisti che facevano diciamo questa pratica però non era diciamo codificata solo a pensarci adesso mi chiedo insomma sono stato molto ecco così come Tancioni del resto perché abbiamo iniziato assieme diciamo la nostra pratica ospedaliera iniziando e facendo i primi passi in sala operatoria come anestesisti i giovani anestesisti quindi erano non esperimenti assolutamente non mi permetto di dire questo però erano delle pratiche che ci mettevano in condizione di poter dare quello che in effetti era la nostra conoscenza e quindi la partecipazione e la professionalità sempre con noi sul fatto del diciamo questi parti così ridotti nel nostro territorio beh insomma ci sono degli aspetti anche sociali che bisogna tenere presente anche con il fatto che non i giovani non possono lavorare che non lavorano questo può essere indotto al fatto che non si sposano e quindi non si fa la procreazione e quindi non si hanno i figli e il territorio è certo il territorio nostro è carente per alcuni aspetti anzi tanti aspetti anche quello ripeto ancora sociale ed impegno lavorativo insomma manca il lavoro manca per questo i giovani hanno difficoltà a sposarsi e a mettere al mondo dei figli quindi la natalità è diminuita ma non nei parametri che diceva lei cioè di 500 parti l'anno noi invece siamo rispetto agli ospedali della Calabria e lo dico insomma certamente non come orgoglio però lo dico come dato di fatto è scientificamente provato noi facciamo mille e quattro mille e tre mille e quattro diciamo parti all'anno quindi voglio dire questo ha convinto il commissario ad acta l'ingegnere scura a tenere presente anche di questi dati ed essere convinto per questo a tenere aperto la neonatologia che io ho voluto sempre perché ecco era una cosa che non si poteva sopportare dal punto di vista sociale e professionale che una donna dovesse partorire fuori all'ospedale di Crotone Dottore Rena un'iniziativa sicuramente importante per questo territorio si parla probabilmente di un ritorno di fiamma che un tempo c'era nel nostro ospedale a Crotone e che forse dovrebbe anche ora insomma visto che siamo nel XX secolo ritornare a parlare di quello che è parto analgesia parliamo del parto indolore sì sicuramente è una serata bella interessante voglio approfitto per ringraziare la FIDAP per l'organizzazione che ci permetterà anche di riprendere questo tema noi insieme diciamo anche a delle consulenze esterne abbiamo ripreso questo tema del parto indolore perché ormai è un lea è una donna che lo richiede è un servizio che va dato è chiaro una cosa che questo servizio va organizzato come si può vedere dalle relazioni qui dei professionisti che sono stati invitati a relazionare c'è tutto un aspetto organizzativo che purtroppo ahimè in questi anni dal 2010 da quando c'è stata la conferenza Stato-Regione per avviare l'organizzazione delle sale parto e quindi anche il parto indolore è venuto meno noi stiamo cercando di recuperare questo tempo riorganizzando il blocco delle sale parto mettere in condizione di poter fare questa pratica che le donne che la richiedono ci deve essere anche nel nostro ospedale nel massimo della sicurezza per la donna e per il bambino e per gli operatori che la fanno Riusciamo ad avere dei tempi? I tempi non sono brevi perché dobbiamo essere sinceri perché vanno riviste ristrutturate tutte le sale parto tutto il blocco va messo in sé anche una sala operatoria accanto c'è una spesa economica che abbiamo recuperato all'interno del nostro bilancio i tempi sono quelli di un appalto di una gara che è abbastanza consistente quindi noi abbiamo chiesto alla regione di darci almeno 8 mesi di tempo 8-9 mesi di tempo per poter completare questo servizio Diciamo che lei è quella che ha ideato realmente quella che è questa iniziativa dietro il supporto poi della FIDAPA parliamo di parto analgesia che un tempo c'era anche a Crotone che oggi non c'è più e che probabilmente da qui a qualche mese forse in qualche modo dovremmo riavere sì è questo l'obiettivo di questo convegno il commissario Rene è qui proprio per questo motivo vuole illustrare le novità i progetti per la sala parto la predisposizione dei box adeguati per la parto analgesia e ovviamente come ha potuto sentire si parla anche di incremento del numero degli anestesisti per garantire il servizio H24 quindi questo comunque è un progetto che richiede un po' di tempo e più rispetto al solito allora è già stato approvato via una delibera di gennaio 2016 che fondamentalmente è la conquista per cui noi abbiamo organizzato questo convegno questa delibera ovviamente deve trovare attuazione ci hanno richiesto 6-8 mesi per dare il via al progetto definitivamente e consentire a tutte le donne di partorire senza dolore laddove lo volessero ovviamente io le chiedo come mai è ideato questo tipo di convegno come mai si è fermato su questa tematica io l'ho sperimentato sulla mia pelle il mio primo bambino è nato nel 2012 con parto analgesia con la dottoressa Federici la quale proprio per il rapporto di amicità che si è instaurato l'ha rifatto adesso nonostante le criticità adesso che è nato il mio secondo bambino e per me l'ho vissuto come un diritto veramente della donna in Elea perché la donna deve poter scegliere non si può essere vittime del parto il parto è un momento di gioia e deve essere tale a 360 gradi lei ricopre un ruolo se vogliamo fondamentale all'interno della struttura sanitaria ospedaliera crotonese oggi abbiamo toccato un po' una tematica sicuramente importante per le donne di questo territorio ma non solo parliamo di parto analgesia parliamo di parto indolore che un tempo si praticava nel nostro ospedale oggi non si pratica più io posso fare io posso fare un po' la storia di quello che è stata e che è tuttora nel nostro ospedale cioè io negli anni 70 quando cominciai a iniziare la mia carriera di anestesista c'era qualche volta qualche volta che si faceva la parto analgesia solo occasionalmente magari qualche parente stretto eccetera però naturalmente col passare degli anni abbiamo visto cioè che c'era un'esigenza da parte della cittadinanza oppure delle donne che partorivano che volevano appunto un'analgesia durante il parto perché era un diritto era diventato un diritto non un dovere un diritto da parte loro partorire un dovere da parte nostra assecondare le loro esigenze e naturalmente io da quando cominciai ad avere la responsabilità del reparto vi parlo di otto anni fa nel 2008 presi in considerazione questo fatto e cioè cominciai a valutare questa possibilità di parto analgesia addirittura mandai in altri ospedali laddove si praticava quotidianamente la parto analgesia alcuni miei collaboratori e vennero armati di buona volontà e di tanta cultura e professionalità e cominciamo a fare questa parto analgesia parto analgesia che addirittura eravamo arrivati a un centinaio di casi quasi quotidianamente però poi ci sono sorti alcuni alcuni handicap non tanto per noi ma perché le pazienti rischiamano così pure il nascituro in sala parto che tuttora è una una sala parto alquanto angusta dove potersi destreggiare da un punto di vista tecnico nostro è un pochettino difficoltoso non solo ma come accade in viaggio ospedale accanto alla sala parto c'è una sala operatoria che servirebbe nei casi casi acuti cioè o quantomeno nella varie difficoltà a partorire poi col parto cesare col taglio cesare e questo non è possibile per cui ci siamo un po' tirati indietro per evitare appunto questo diciamo che il blocco di questa iniziativa se vogliamo è proprio perché c'era la carenza di quella che era organizzativa ma soprattutto della struttura non tanto di quella che era l'esperienza professionale nel frattempo però si parla anche di un ampliamento probabilmente ci sono già dei tempi quindi da qui a 6-8 mesi Crotone dovrebbe tornare alla possibilità di un progetto appunto per organizzare una sala operatore quindi una sala parto in modo da renderla più agibile e quindi più garante al parto per l'ancitura una domanda interessante per quello che lei può dare come risposta visto che è il protagonista se vogliamo di questa si parla di parto analgesia intanto favorevole o contrario certamente la parte analgesia abbiamo visto da quello che hanno detto i relatori è necessaria soprattutto in determinate situazioni c'è la donna ha varie sfaccettature per cui troviamo soggetti che collaborano tranquillamente a un parto naturale senza l'aiuto di nessun rimedio ci sono donne che per vari motivi culturali anche fisiologici fisiopatologici necessitano invece di un trattamento di parto analgesia e quindi in queste circostanze è chiaro che avere a disposizione questi strumenti sia fondamentale e fondamentale per il buon esito del parto nonché per la salute della stessa donna quindi è sicuramente una cosa importante indicazioni e controindicazioni del parto analgesia beh le indicazioni della parte analgesia come abbiamo detto sono praticamente alcune malattie intanto ci sono determinate malattie per cui è richiesto o meglio è auspicabile che si faccia la parte analgesia in donne che ad esempio hanno problemi di tipo psichiatrico problemi che hanno delle patologie un po' metaboliche che hanno necessità quindi di avere un parto diciamo quanto più sereno possibile controindicazioni stessa motivazione patologie che non ci consentono di poter fare una parte analgesia soprattutto gente che hanno forme tipo tensione o hanno altri diciamo disturbi legati appunto agli effetti collaterali che i farmaci e la stessa puntura epidurale può portare quindi da questo punto di vista si cerca di selezionare le pazienti stesse e di assecondarle laddove è possibile grazie a lei ecco diciamo che lei gioca un ruolo fondamentale all'interno di questa iniziativa ostetrica anestesista ginecologo in genere è un gioco di squadra però forse quello che fa lei è quello fondamentale al di là poi di quello che è l'iniziativa di questa sera parliamo di parto analgesia parliamo di parto in dolore con tempo si praticava nel nostro ospedale che oggi non c'è più ma sì effettivamente il nostro ruolo è un ruolo centrale perché praticamente poi alla fine siamo noi a decidere il momento in cui dobbiamo far intervenire l'anestesista perché fare l'anestesia troppo tardi ha poco significato farla troppo presto magari ci allunga magari i tempi e le aspettative della donna se facciamo un'anestesia molto 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 presto risulta che magari blocchiamo quelle poche contrazioni che ci stanno allunga andare la donna percepisce questa situazione come essere in un intervallo di due o tre giorni per cui il nostro ruolo forse è molto molto centrale quello più responsabile dal punto di vista del timing della decisione quando intervenire ecco in questo caso parliamo di parto analgesia quali sono realmente le condone indicazioni e se una ragazza di prima esperienza quindi con primo parto decide di fare proprio di praticare il parto in dolore se c'è la necessità di una di una formazione di un'attenzione diversa perché in genere bisognerebbe oltre al corso solito che si fa preparto dovrebbe esserci anche poi un'informazione maggiore quindi un titolo informativo maggiore per le partorienti sicuramente ma adesso c'è un'informazione abbastanza diffusa perché molto spesso le donne che vogliono parto in parto analgesia ci vengono già informate per poter fare questa tecnica il discorso di fondo è che ci vuole l'informazione ci bisogna divulgare che c'è questa metodica che non non ci allunga il parto non ce lo peggiora non ci fa correre dei rischi anzi può portare soltanto dei benefici l'informazione va informata alla paziente le controindicazioni sono poche le ha detto la dottoressa Federici facendo la sua relazione è chiaro che le controindicazioni di una pestrinopenia spesso la portiamo in taglio cesario perché se no rischiamo la febbre la sepsi o tutte condizioni di controindicazione ma molto spesso questo cerchiamo di evitarle anche un parto un parto per via vaginale il discorso è l'informazione ci vuole le controindicazioni sono poche ci vuole la volontà con la dottoressa Cinzia Federici avevamo cominciato un primo parto forse dieci anni fa piano piano ci eravamo armati ma sulla nostra prospettiva sulla nostra volontà di poterlo fare anche fuori orario speriamo che adesso parti con tutte le regole che ci sono per questa situazione il dottore Arena ci dà un tempo di sei massimo otto mesi secondo lei la nostra struttura è pronta poi ad affrontare nuovamente quello che è un ritorno di fiamma qual è il parto analgesia bisogna cominciare se noi cominciamo ad avere gli ambienti è già qualcosa di importante perché nella parto analgesia avere più sale parto disponibile avere un anestesista dedicato avere la possibilità avendoci più sale parte mettere un parente o il marito può darci una mano forte avere la struttura già pronta è un fatto importantissimo se ci fanno la sala operatoria come dicono anche sopra ci fanno correre molto meno rischi quindi possiamo gestire la situazione con più tranquillità grazie a tutti